Musica Nuova ondata di sbarchi sulle coste del nostro paese 1200 migranti tratti in salvo dalla guardia costiera in due distinte operazioni Nel fine settimana a Lampedusa sono sbarcati 1700 profughi L'hot spot dell'isola è ancora una volta al collasso Record di turisti in Italia durante le festività pasquali Superati i numeri pre-covid Presenti solo a Roma un milione di stranieri Pienone anche nelle città d'arte affollati musei e siti archeologici L'11 aprile del 1963 veniva pubblicata l'enciclica Pace Minterris Con la firma di Giovanni XXIII all'indomani della crisi dei missili di Cuba Che aveva portato il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale Un coriale buongiorno dal TG2000 ben ritrovati In primo piano la nuova ondata di sbarchi di migranti sulle coste italiane Mentre l'hot spot di Lampedusa è di nuovo al collasso Sentiamo Fabio Bolzetta Una Pasqua di passione lungo le rotte del Mediterraneo Imbarcazioni in avaria e migranti in cerca di aiuto In tre giorni, da venerdì a lunedì, un crescendo di impegno per i soccorritori Che hanno tratto in salvo circa 2000 persone Alle quali si sono aggiunti altri 1200 migranti Nelle operazioni di soccorso nell'Oionio tra la Sicilia e la Calabria 38 le vittime di due naufragi Una a largo della Tunisia e l'altro in acque sarmaltesi e 18 dispersi La Guardia Costiera è intervenuta per soccorrere un peschereccio Con 800 migranti a bordo a oltre 120 miglia sud-est di Siracusa E un'altra imbarcazione con 400 persone in area SAR italiana A 170 miglia sud-est di Capopassero Finita la sosta dovuta al maltempo Sono riprese a pieno ritmo dunque le partenze di migranti verso le coste italiane Ed è tornata sotto pressione la macchina dell'accoglienza Più di 40 barchini sono giunti a Lampedusa negli ultimi tre giorni E l'hot spot è tornato a quadruplicare la capienza massima La struttura di Contrada Embriacola infatti Ospita al momento circa 1800 persone sulle 400 massime previste E intanto la questione migranti approderà oggi pomeriggio In Consiglio dei Ministri Attesa per la possibile dichiarazione dello stato di emergenza Sentiamo Augusto Cantelmi Stato d'emergenza e centri per i rimpatri In ogni regione di fronte al massiccio incremento dei flussi E nel timore di un collasso politico in Tunisia Il governo vuole correre ripari prima che sia troppo tardi E già nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio Arriva il primo intervento che prevede la dichiarazione dello stato di emergenza Si deve ancora valutare tuttavia Se il provvedimento riguardi soltanto Calabria e Sicilia Oppure estenderlo su tutto il territorio nazionale Ciò consentirebbe di snellire una serie di procedure Per l'accoglienza di coloro che possono restare E i rimpatri per chi non è regola Motivo per cui si lavora anche al rafforzamento dei centri per i rimpatri Si prepara anche una nuova missione in Tunisia Questa volta a livello europeo insieme al Ministro dell'Interno Piante e Dose, al collega francese Darmanin E la Commissaria Europea per gli Affari Interni, Johansson Si prova a coinvolgere anche la Germania Intanto al Senato arriva il decreto cutro Il governo sembrerebbe intenzionato a proporre alcuni emendamenti Legati proprio all'incremento dei flussi migratori Mentre le opposizioni annunciano battaglia con un centinaio di emendamenti E sempre nel pomeriggio il DEF, documento di economia e finanza Arriva in Consiglio dei Ministri con la stima della crescita del PIL Ritoccata al rialzo più 1% rispetto alla proiezione formulata a novembre Che prevedeva invece lo 0,6% I lavori saranno preceduti dal vertice per le nomine degli enti statali Ora la guerra in Ucraina con al centro le polemiche Sulla fuga di documenti top secret del Pentagono finiti sui social Che pongono un grave rischio per la sicurezza Ci riferisce Federico Plotti Mentre il Dipartimento di Giustizia americana e il Pentagono Continuano la caccia alla talpa all'origine della fuga dei documenti top secret Relativi alla guerra Finiti senza filtri in rete L'Ucraina starebbe cambiando alcuni dei suoi prossimi piani militari Non la controffensiva di primavera annunciata a più riprese da Zelensky Anche se i file segreti svelano come soprattutto gli Stati Uniti Stiano aiutando Kiev nella sua preparazione Intanto non c'è alcuna ipotesi di tregua per la Pasqua ortodossa Che cade il 16 aprile Mosca per il momento smentisce un cessate il fuoco Nessun tavolo è stato aperto Non c'è alcuna trattativa in corsa Ha detto ieri il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov Che gela anche il presidente transalpino Macron La Francia è schierata con una delle parti in conflitto E non può svolgere un ruolo di mediazione Così come è chiesto al numero uno dell'Eliseo Dal presidente cinese Xi Jinping Dunque la guerra non si fermerà Nemmeno nel giorno più importante per la chiesa ortodossa Proseguiranno gli scontri soprattutto nell'esterno Dell'Ucraina Dove l'esercito russo continua ad avanzare Ma senza sfondare Come nei pressi di Bakhmut Città simbolo della battaglia per il Donbass Sotto assedio da oltre sette mesi Secondo l'intelligence britannica Ma non solo Le truppe di Mosca nel tentativo Per il momento abbastanza sterile Di conquistare terreno Stanno pagando un prezzo altissimo Soprattutto in termini di vite Di contro le forze ucraine In queste ore stanno lanciando un'offensiva In particolare nel sud del paese Nella zona di Kherson E in Estremo Oriente Sale la tensione tra Cina e Taiwan Dopo che l'isola è stata circondata Da 12 navi e 91 aerei da guerra cinesi Il servizio di Maurizio Dischino La Cina continua i giochi di guerra Alle 11 di questa mattina Ora locale 9 navi e 26 caccia militari cinesi Erano ancora nei dintorni di Taiwan Nonostante Pechino Abbia dichiarato conclusi Tre giorni di esercitazioni militari Iniziate sabato Attorno all'isola separatista Dal 1949 Che considera parte del proprio territorio nazionale La Cina ha condotto simulazioni Di blocco, accerchiamento E attacchi a Taiwan Come risposta alle recenti visite e transiti negli Stati Uniti Da parte della presidente taiwanese Tsai Ing-wen La quale ha reagito condannando la Cina Per il suo comportamento irresponsabile Ing-wen ha anche sostenuto Che le visite all'estero Comprese le tappe negli Stati Uniti Non sono nuove Sono ciò che la gente si aspetta La Russia si è schierata al fianco della Cina Abbiamo assistito a molteplici azioni provocatorie Nei confronti della Repubblica Popolare Cinese Ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov La Cina ha il diritto sovranno di rispondere A queste azioni provocatorie Inclusa la conduzione di manovre militari In stretta conformità con il diritto internazionale Il Giappone vicino di casa Ha espresso preoccupazione Per l'addestramento intimidatorio della Cina Proprio oggi 18.000 soldati americani Filippini e australiani Inizieranno esercitazioni militari In programma fino al 28 aprile Nelle acque del Mar Cinese Meridionale Si tratta delle più grandi manovre militari Condotte insieme da Washington e Manila Ora in Israele Che secondo il premier Netanyahu È sotto attacco terroristico Intanto rientra oggi a Ciampino Intorno alle 15 La salma dell'italiano rimasto ucciso a Tel Aviv Sentiamo la nostra corrispondente Da Gerusalemme Alessandra Buzzetti È in viaggio per l'Italia su un volo di stato La salma di Alessandro Parini Le autorità israeliane hanno concluso le indagini scientifiche Sul corpo del giovane avvocato romano Travolto da un'auto lanciata in corsa Contro i passanti a Tel Aviv La sera del venerdì santo Nessun proiettile nel corpo di Alessandra Ucciderlo è stato l'impatto con la Kia È guidata da Yusef Abouya Ber Arabo-israeliano Disarmato ma autore Secondo gli inquirenti Di un attentato premeditato di matrice terroristica Siamo sotto attacco Ma ristabiliremo la sicurezza su tutti i fronti Ha promesso ieri sera il premier Netanyahu In una conferenza stampa La prima dopo lo sciopero generale Il 27 marzo contro la riforma della giustizia E il licenziamento del ministro della difesa Reo di aver espresso perplessità sul tema Il premier ha annunciato il suo reintegro E ha cercato di rassicurare l'opinione pubblica israeliana Dopo giorni di violenza e tensioni Oggi nuova incursione a Genin Dell'esercito israeliano Che ieri ha ucciso a Gerico Un ragazzo palestinese di 15 anni Salgono a tre le vittime israeliane Dell'attacco di venerdì mattina In un insediamento nella valle del Giordano A generare ulteriore tensione La marcia dei coloni ieri Guidata da due ministri estremisti E il governo Che hanno aizzato i partecipanti Sostenendo che la sicurezza in Israele Si otterrà legalizzando ancora più avamposti Considerati dalla comunità internazionale Territori occupati illegalmente A più di sei anni dal terremoto Che nell'agosto 2016 Colpì il centro Italia Distruggendo Amatrice La Croce Rossa italiana Presenta oggi un rapporto Su ripresa e ricostruzione Post-disastro Per sapere di più ci colleghiamo Con Alessio Orlandi In diretta dalla sede Della Croce Rossa Ti ascoltiamo Alessio a te Buongiorno È ancora in corso qui nella sede A Roma della Croce Rossa La presentazione del rapporto Ripresa e ricostruzione Post-sisma nel centro Italia Fatto dalla stessa Croce Rossa Partendo dalle attuali normative Dalle attuali procedure Gli esperti si stanno confrontando Per capire in che modo Migliorare queste procedure Come si può e dove si può ancora intervenire Ricordiamo che il terremoto Che il 24 agosto del 2016 Colpì il centro Italia Amatrice, Accumuli E Arquata del Tronto Fece 299 vittime E sul rapporto proprio Tra la Croce Rossa Italiana E la protezione civile Nella fase Nella gestione Dell'emergenza Ascoltiamo il capo Della protezione civile Fabrizio Curce E poi linea allo studio Emergenza e ricostruzione È un tema che si sta ponendo Con grande forza Si sta proponendo anche Grazie all'apporto Di alcuni soggetti Come Croce Rossa Che sono Come dire Presenti in tutto il ciclo Noi come istituzioni Facciamo un po' la spola C'è la parte operativa Emergenziale Poi c'è la fase di ricostruzione C'è una fase Chiamiamola di Coggestione Di alcune attività E poi ci sono I cittadini Che vivono questo percorso Dall'inizio alla fine E ci sono poi strutture Che ovviamente Sono sempre presenti Mi piace come dire Ricordare appunto L'apporto di Croce Rossa Che è presente dall'inizio Ma che è presente anche oggi E l'idea che un sistema Importante come quello Di protezione civile Possa contare Su alcuni soggetti Che vedono tutto il percorso E che sono presenti In tutto il percorso È un elemento fondamentale Cambiamo pagina Parliamo del boom Di turisti stranieri Che in questi giorni Ha scelto l'Italia Come meta Per le vacanze pasquali Ci dice tutto Clara Iatosti È stata la Pasqua Il pienone Il pienone lo hanno registrato Anche tutte le città D'arte italiane Firenze in primis Con le gallerie Degli uffizi Affollate di turisti Ammirati Uno scrigno di tesori Capolavori senza tempo E un'offerta mirata Ed intelligente Per i visitatori Con sconti Per i mattinieri Che hanno varcato L'ingresso Prima delle nove Del mattino Anche Venezia Nord E Napoli E tutta la Campania Felix A Sud Sono stati presi d'assalto Se al Colosseo Sono state registrate 50.000 presenze Il sito archeologico Di Pompei Ne ha accolte 34.000 L'Italia è pronta Per affrontare L'estate 2023 Che preannuncia Già Un boom di turisti 60 anni fa L'11 aprile Del 1963 Venne pubblicata La Pace Minterris L'enciclica Di Papa Giovanni XXIII Fu diffusa All'indomani Della crisi Dei missili Di Cuba In servizio Di Paolo Fucili Vediamo Pochi altri documenti Sottoscritti Da un Papa Possono dirsi Altrettanto famosi Ed attuali Persino a distanza Di 60 anni L'11 aprile 1963 Giovedì Santo San Giovanni XXIII Pubblica La sua ultima Enciclica Pace Minterris Morirà il giorno Dopo Pentecoste Per passare alla storia Come l'iniziatore Del Concilio Vaticano II E non solo L'antefatto Di quel testo Risala infatti Al 25 ottobre 62 La guerra fredda Ormai decennale Fra Stati Uniti E Unione Sovietica Si surriscalda All'improvviso Con la crisi Dei missili A Cuba Il mondo È sull'orlo Della terza guerra mondiale Che data la potenza Degli arsenali atomici Sarebbe comunque Anche l'ultima È un radiomessaggio Di Papa Roncalli 20 righe in francese Ad avviare La distensione L'ispirazione Di quelle parole Poi si sviluppa Fino a diventare Un'enciclica intera Cioè il più solenne Testo del Magistero Di un Papa Ed è la prima volta Che il firmatario Si rivolge Fin dal titolo A tutti gli uomini Di buona volontà Da allora Il mondo Ne ha viste Tante altre Di guerre Ma in quelle pagine Rissuona ancora oggi L'anelito Alla pace Della coscienza morale Dell'umanità E questo pomeriggio Alle ore 17 Su TV 2000 Ci sarà una puntata Speciale Del diario Di Papa Francesco Dedicata proprio All'anniversario Della pace Interis Tra gli ospiti Il cardinale Matteo Zuppi Pierferdinando Casini E Alberto Melloni Con questo è tutto Vi lascio alle previsioni Del tempo E vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro un buon pranzo Arrivederci